Buongiorno e buon sabato da Paulentone Family e oggi bel tempo qui a parte i corvi nella big city di Otta che dicevo appunto è sabato oggi in teoria Tommy dovrebbe andare all'asilo come tutti i sabati questo per permettere a me e alla signora di passare una giornata in tranquillità e di relax ma oggi c'è un evento chiamato San Cambi dove i genitori possono partecipare a delle attività questo per far sì che appunto i genitori possano vedere, possano interagire ma appunto possano vedere più o meno quello che i genitori possano vedere quello che i bambini fanno come attività durante il loro tempo di permanenza all'asilo Aspetta chiudere il Tano Niente display oggi Di solito c'è il touch con cui si mette l'orario di arrivo dei bambini questo è per Hinamatsuri che è un altro giorno di festa che si festeggia qui in Giappone il 3 marzo ecco qua vanno le ciabatte, scarpe qua ci sono alcune foto che hanno fatto durante il Setsubunoi Tomi sempre presente, sempre prima fila non c'è, non c'è non c'è qua ci sono simili altri genitori guardate quelli in pantaloncini corti questo qua, che avete visto, il pantaloncino corto rosso è sempre tutto l'anno in pantaloncini corti estate, autunno, primavera e inverno sempre pantaloncini corti non c'è non c'è non c'è non c'è il Vai a sederti al tavolo, vai! Adesso racconta una storia Adesso fanno un saluto Buongiorno 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 Adesso l'appello Fammi ribelle Adesso fanno una specie di percorso Chiamiamolo Sportivo Ecco dove ha imparato a saltare Corre Tommy, vieni qua Ciccio Tommy, Tommy Maledetto, è scappato Andiamo di là Tommy Andiamo di là Dai fai questo Ok Da qua Tommy Dall'inizio Tommy, vai qua Dall'inizio 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 Solo questo Dall'inizio 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 Bravo Tommy Dall'inizio Vai Tommy vai 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 hanno detto che il prossimo San Cambi sarà quando Tomi entrerà nella nuova classe tra circa un mese e mezzo finirà l'anno scolastico o l'anno di asilo qui poi Tomi salirà di classe salirà di ranking e niente, spero che il video vi sia piaciuto un po' di quotidianità qui nella big city di Otake e al prossimo video al Giappone ciao da Polettone Family Tomi ciao, saluta ciao ciao